Indignazione in America Latina per il caso Snowden Morales. Il presidente boliviano, partito da Mosca, è stato costretto ad atterrare all'aeroporto di Vienna, per il sospetto che sull'aereo viaggiasse la gola profonda del data gate. Questo dopo che vari paesi europei, come Francia e Portogallo, hanno negato il permesso di sorvolo. Per Vienna la presenza di Snowden è una voce infondata. Per la Bolivia è stato commesso un atto di prepotenza imperialista. Respingiamo categoricamente questa storia, denunciamo le menzogne e il complotto del governo statunitense, che usa alcuni governi europei con l'obiettivo di danneggiare l'immagine del governo boliviano e del presidente Evo Morales. L'immagine del governo boliviano con il fin di perjudicare l'immagine e il liderazgo del presidente Evo Morales. Vari alleati della Bolivia, tra cui il Venezuela, hanno espresso solidarietà a Morales e l'unione delle nazioni sudamericane dovrebbe riunirsi per analizzare il caso. Il presidente venezuelano Maduro ha detto che Snowden, che si troverebbe ancora all'aeroporto Sheremetyevo di Mosca, deve essere protetto perché ha osato dire la verità sui tentativi statunitensi di controllare il mondo. Il presidente Obama ha avvertito che offrirgli asilo comporterebbe gravi conseguenze.